Oggi parleremo delle leggi di Planas, le leggi di Planas che dettano le regole di crescita dei macellari, distinguendo però il tipo di crescita della macellare che è in realtà un po' diverso dal tipo di crescita della mandibola. In particolare noi possiamo subito dire che la crescita dei macellari avviene in rapporto ad una funzione fondamentale, la funzione masticatoria, che è la funzione più forte, più potente, lo stimolo più potente che noi possiamo dare ai nostri macellari per permetterne la crescita ed in particolare noi abbiamo due tipi di crescita che vengono distinte in quelle che sono le quattro leggi di Pedro Planas, professore praticamente prima a Madrid, dentista del re e poi successivamente professore a Barcellona che ha scritto il suo libro, l'RNA o la riabilitazione neuroclusale, in cui appunto lui spiega come questa masticazione sia la funzione fondamentale e la crescita avviene sempre in modo due dimensionale, però noi dobbiamo distinguere due tipi di crescita, quella che avviene in senso postero-anteriore o sagittale e quella che avviene in senso trasversale da quella che invece avviene in direzione verticale. e a dettare praticamente questa crescita è la masticazione, la quale detetterà una crescita prevalentemente di tipo sagittale, postero-anteriore, soprattutto dal lato bilanciante, mentre la crescita di tipo verticale si attua principalmente dal lato della masticazione ed in particolare dal lato della mandibola. Bene, noi proprio utilizziamo queste leggi di Planas e che vanno praticamente a rispondere poi ad ancorarsi al principio di Claude Bernard che la funzione determina l'organo, conforma l'organo e l'organo conformato determina la funzione. Quindi il concetto di struttura-forma in stretto rapporto con la funzione e principio di forma e funzione che trova nelle leggi di Planas proprio la massima applicazione e strinsecazione nel meccanismo di crescita. Gli effetti sulla crescita macellare, in particolar modo stimolati dalla masticazione, avvengono con un avanzamento sul piano sagittale ed una in senso postero-anteriore ed un allargamento in senso trasversale dal lato di lavoro. Pertanto la ciclicità della masticazione, ossia una masticazione bilaterale alternata che avvenga su tutti e due lati, in assenza di stimoli nocicettivi, assicura un corretto sviluppo sia sul piano sagittale che sul piano trasversale, sia a livello macellare sia a livello mandibolare. Tuttavia però in presenza di una funzione, quello che accade spesso, in presenza di una, è difficile vedere queste bocche ideali, in presenza di una funzione masticatoria scorretta, non corretta, unilaterale che si svolge prevalentemente da un lato rispetto all'altro, noi avremo che la crescita non avviene in modo corretto, ma addirittura si avranno delle evidenti alterazioni a carico del macellare, in particolar modo si avrà una deviazione della linea mediana verso il lato di lavoro, una distoclusione nel lato di lavoro, cioè il molare inferiore arretrato rispetto al molare superiore avremo una seconda classe e invece una tendenza ad una classe normale, un normoclusione dal lato controlaterale, il lato di bilanciamento o di non lavoro. Quindi questa torsione che noi andiamo ad osservare l'interno praticamente di una bocca in seguito a queste modificazioni. Ancora va ricordato che ogni movimento, in particolar modo la masticazione, come ogni crescita avviene sempre, come dicevamo, nei tre piani dello spazio e per cui va considerata, oltre alla crescita sagittale e trasversale, anche quella vertigale. Quest'ultima però non avviene tutta nella stessa direzione, ma avviene soprattutto sul macellare superiore come sulle due embi mandibole in modo diverso rispetto all'aspetto embriologico, alla natura embriologica del tessuto che noi andiamo a interessare. E noi sappiamo che nel macellare superiore noi abbiamo una zona che comprende di quattro incisivi chiamata premaxilla, mentre da canino a ultimo molare dentro del giudizio noi abbiamo i due processi palatini delle ossa macellari. L'accrescimento verticale della zona premaxillare rispetto a quella delle zone palatari avviene in un modo differente e sarà proprio con questa differente modalità di crescita verticale, sia in rapporto alla funzione, sia in rapporto alla natura embriologica del tratto di macellare che stiamo considerando, che darà origine poi, lo vedremo, ad un piano clusale che ha il classico aspetto di piano a zeta, lo vediamo, sale, scende, riscende e risale. Perfetto. Quindi va ricordato questo concetto e questo praticamente viene annunciato nelle varie leggi di Planas. Le leggi di Planas, che sono quattro, prendono la prima in considerazione proprio lo sviluppo postero-anteriore sagittale o quello trasversale delle ossa macellari. Poi la seconda legge prende in considerazione la crescita verticale di premolari e molari e poi la terza legge, la crescita verticale incisiva, proprio perché c'è questa differenza embriologica che abbiamo accennato, e poi la quarta legge che prende in considerazione quello che è il piano occlusale. Benissimo. Capita questo concetto, noi andremo a vedere una legge alla volta. La prima legge, che è legge dello sviluppo. Pertanto la prima legge che va a spiegare l'accrescimento ci fa capire che proprio è lo sviluppo trasversale antroposteriore della macellare, in particolar modo della mandibola che nasce, diciamo, che al momento della nascita è veramente iposviluppata, la metà della grandezza che ha il macellare superiore, viene e si va a sviluppare fisiologicamente in modo corretto durante il periodo dell'allattamento, grazie all'effetto suzione che determina questa spinta verso l'avanti stiramento delle articolazioni temporomandibolari, ma in particolar modo dei sugli retrodiscali permettendo la crescita manipolare. Questa situazione cambia ovviamente con la comparsa dei denti dei cibi, ma sarà proprio quella fisiologica masticazione bilaterale che le successive frazioni retrodiscali postero-anteriore a determinare l'accrescimento sagittale della mandibola e determinare un equilibrio bilaterale con un'alternanza del lato di lavoro e del lato di bilanciamento, con una crescita corretta sia della mandibola e sia del macellare. Se infatti questa masticazione bilaterale si attua in modo corretto, avremo effetti di corretta della crescita mandibolare in senso posto-anteriore nel lato di bilanciamento e crescita ossea verticale invece dal punto del processo alveolare in senso verticale nel lato di lavoro. Gli effetti della crescita macellare avverranno sia un avanzamento sul piano sagittale ed un allargamento trasversale soprattutto dal lato di lavoro. Quando noi avremo però uno spostamento, come dicevamo, della deviazione della linea mediana e della distocclusione del lato di lavoro e invece una enorme occlusione dal lato bilanciante vuol dire che ci saranno i sintomi di una masticazione unilaterale che è disfunzionale. Poi avremo la seconda legge. La seconda legge diventa l'elemento fondamentale nel determinare invece lo sviluppo verticale. Lo sviluppo verticale è diviso tra la seconda e la terza legge perché dal punto di vista embriologico la crescita verticale praticamente che si ha nelle emimandibole e nel macellare superiore è diversa da quella che si ha nella zona premaxillare del macellare superiore dove è presente la zona incisiva e lo sviluppo verticale ci dice che la funzione masticatoria impegna tutto l'apparato stomato-ognatico per circa un'ora determinando una sorta di effetto leva, molla sulle strutture alveolari e con queste si distribuisce anche a livello basale corregendo l'eventuale crescita e quanto viene ma soprattutto quell'ora di masticazione è quella che dà lo stimolo funzionale mentre nelle 23 ore successive avviene quella che è la crescita rigenerativa volta a mantenere la dimensione verticale e un'occlusione in equilibrio. Tale risposta rigenerativa avviene però in maniera dipendente e separata in ciascuno i differenti settori di diversa derivazione embriologica del macellare superiore, maxilla e della mandibola delle due emimandibole per cui se noi avremo una masticazione prevalente da un lato quella masticazione prevalente determinerà una crescita verso l'alto indietro di quelle emimandibole invece uno sviluppo in avanti e in basso dell'altra emimandibola e così avverrà nel macellare superiore e nel macellare superiore diversi nelle due zone embriologicamente diverse. Ecco la stretta rapporto fra la struttura e la funzione che si esprime anche nel momento della crescita. Le due emimandibole possono crescere pur essendo collegate e non separate come diciamo c'è la premaxilla dal macellare dai processi palatini di rossa macellare grazie alle strutture suturali di tipo piano quindi che permettono uno scivolamento. Nell'ambito praticamente dell'emimandibola questo possibile accrescimento avviene perché? Perché i condili praticamente si possono adattare nella loro crescita e nel lato dove ci sarà il lato di masticazione prevalente ci sarà compressione del condilo sulle strutture elettrosiscali con un condilo che sarà più basso e più largo mentre nel lato praticamente di bilanciamento il condilo tende a scendere più avanti in basso avremo una testa del condilo più piccola e un collo del condilo più lungo e lunga tutto il lato dell'emimandibola che tende a svilupparsi in direzione postero anteriore e mentre dal lato praticamente di lavoro tenderà ad avere una maggiore accrescimento retticale e tale sarà anche l'orientamento spaziale dei denti mentre a livello dei mascellari la crescita sarà diversa dalla zona premaxillare dalla zona mascellare dal lato dell'emimandibola della mascella che tende a lavorare avremo un avanzamento in senso postero anteriore sagittale del mascellare superiore rispetto al lato controlaterale e questo poi diventa diciamo evidente il fenomeno evidente della seconda legge che porta alla legge di planas della minima dimensione verticale cosa vuol dire vuol dire che la masticazione è sostenuta e si esprime nella zona dove è presente la minima dimensione verticale cioè se noi vediamo lo scivolamento della mandibola dal lato della masticazione prevalente la mandibola tenderà a salire e fare un angolo funzionale masticatore più piccolo mentre dal lato dove tende a scendere la mandibola avrà un angolo funzionale masticatore di planas più alto dal lato dove più stretto rispetto a quello dove più alto noi praticamente dal lato più basso della minima dimensione verticale avremo la zona di masticazione prevalente perché perché la masticazione deve avvenire con il minor dispendio energetico rispondendo anche alla masticazione al principio dell'economia e della minor dispendio energetico quindi ergonomico quindi sarà sufficiente guardare gli angoli funzionali masticatori di planas vedere qual è l'angolo più piccolo rispetto alla linea mediana all'andamento e dal lato più piccolo dove è presente la minima dimensione verticale noi avremo praticamente il lato di masticazione prevalente poi abbiamo la terza legge di planas la terza legge di planas che dà vita poi al concetto praticamente del diamorale di Tillerman viene chiamata la terza legge di planas anche la legge disfunzionale questa legge nasce dal fatto che i decisivi piantati in premasilla non seguono gli stessi criteri che segue tutta la zona patina del macellare va infatti è dato a questo qui l'elemento di crescita diversa che hanno gli incisivi che noi possiamo anche vederli sul piano verticale sono quelli che poi danno origine a quella masticazione a z quel piano che usare a z che è tipico del soggetto con masticazione unilaterale quindi ogni volta che un paziente per vari motivi nel suo sviluppo somatico dalla nascita fino alla pubertà questo soggetto per qualunque motivo una diselontiasi la presenza di carie denti devitalizzati protesi otturazioni incongue per gli elementi dentali perda la funzione prenda la funzione masticazione solo da un lato la perda dal lato controlaterale quindi va incontro ad una masticazione prevalente unilaterale si può determinare un allungamento del gruppo incisivo superiore con trauma occlusale dello stesso ed in genere si ha la vestibolarizzazione dell'incisivo laterale dell'incisivo laterale dal lato dove c'è il bilanciamento non dal lato dove avviene la masticazione per cui il macellare superiore dal lato della masticazione sale nel lato masticante o lavoro dal lato invece del bilanciamento tende a scendere verso il basso dando vita a quella che è la diagonale di Tillman questa è la diagonale di Tillman cioè non abbiamo la discesa degli enti dal lato di bilanciamento e la salita degli enti dal lato praticamente della masticazione prevalente e quindi quello che noi dobbiamo capire che la crescita quindi risulta mentre dal lato della masticazione gli incisivi inferiori andranno con il canino inferiore che noi lo vediamo è più alto e più indietro rispetto a quello controlaterale gli incisivi inferiori avranno la possibilità di superiori e saranno più alzati perché vengono frenati dagli incisivi inferiori mentre dall'altro lato gli incisivi inferiori andranno a urtare quando il paziente rientra in centrica contro gli incisivi superiori portandoli in avanti e quindi noi avremo questo andamento verso l'avanti e verso l'esterno vestibolare e il basso degli incisivi dal lato bilanciante questo è molto importante quindi questo porta a quello che noi lo vediamo rappresentato in questa immagine qui abbiamo la discesa degli incisivi in canino e del canino di questo lato rispetto dove si apre l'angolo funzionale masticatorio di Planas, la FMB dal lato di bilanciamento mentre dall'altro lato abbiamo la salita di incisivo canino e incisivi canini e la discesa del premolare di solito da questo lato che è il lato della funzione noi avremo che il premolare può andare in interferenza e svolgere una sorta di funzione canina o meglio un trauma da occlusione, può essere un elemento di disturbo con recessione o mobilità o frattura da quel lato di quel premolare quindi questo ci porta a capire che l'andamento di crescita abbiamo visto nella prima legge postero-anteriore o sagittale e trasversale nella macellale delle sue forme in zone embrologicamente differenti e delle due e le mandibole abbiamo visto con la seconda legge la crescita verticale la crescita verticale di premolari e molari e con la terza legge la crescita verticale o legge disfunzionale di crescita verticale degli incisivi della zona premassillare con l'attivazione della diagonale di Dillaman sulla base della legge disfunzionale poi la quarta legge va ad analizzare quella che è la situazione del piano crusale quindi l'equilibrio crusale dipende principalmente dalla situazione del piano crusale e della sua curva di compensazione per cui denti, parodonti, osserviolari costruiscono un insieme organico indissolubile in cui ogni unità esiste in funzione delle altre e risponde contemporaneamente agli stimoli esterni questo che significa che se tali stimoli vengono attuati in modo biologico, corretto, bilateralmente sui due lati non avremo equilibrio quindi se questo piano crusale, questa masticazione lavora su in modo scorretto ci sarà un piano crusale tipo il piano AZ che abbiamo visto e vedremo che i denti non tendono a muoversi per aggressione, per inclinazione come sul lato di lanciamento, per mancanza eventuali di denti ma vanno in traslazione avremo questa mandibola che cresce verso l'alto avremo un condio che cresce in dimensioni maggiori avremo una posizione per attivazione del nervo trocleare quarto paio di denti gradici o patetico che porta verso l'alto con l'obligo superiore d'occhio mentre l'occhio tende a scendere per attivazione dell'oculopontore comune praticamente dal lato del bilanciamento con incisivi che sono più bassi mentre il canino inferiore è più in alto e più indietro dal lato della mastigazione questo sarà più basso come più bassi saranno anche gli incisivi superiori e avremo inoltre praticamente per perdere eventualmente di denti un'alto in azione per aggressione avremo un condio le cui dimensioni praticamente sono più ridotte e sono queste dimensioni ridotte diciamo in posizione più funzionale e meno in posizione più compressa ovviamente l'obiettivo che noi ci prefigiamo in una terapia di questa malocclusione è riportare la mandibola verso l'avanti stimolando la triscia e riportare praticamente in funzione e quindi in masticazione il lato non prevalente di masticazione e quindi cercando di bloccare invece il lato della masticazione prevalente aumentando per concludere possiamo dire che con quanto abbiamo sposto le leggi di Planas sono la vera espressione del principio di forma e funzione espresso già da Claude Bernardi in cui la funzione conforma l'organo e l'organo determina la funzione per cui quello che è importante sappiamo che la funzione importante all'interno della bocca è la masticazione mentre praticamente l'organo che devono essere conformato sono i macellari in particolar modo macellare superiore e mandibola abbiamo visto con Planas che il macellare superiore è fortemente condizionato allo sviluppo embriologico delle strutture embriologiche che lo compongono per cui l'area premaxillare avrà una crescita ventricare sotto stimolo masticatorio ben diversa dalle aree praticamente di premolari e molari che hanno praticamente una crescita verticale differente questa eventuale diciamo disarmonia o legge disfunzionale per il gruppo incisivo o comunque per la minima dimensione verticale per il principio ergonomico si manifesta quando la disarmonia del piano crusale quando ci sia un lato di masticazione prevalente tutta la nostra terapia deve essere mirata a ripristinare il lato di funzione eliminare il lato di funzione di masticazione prevalente riportando la masticazione sul lato di bilanciamento per permettere il corretto equilibrio e di sviluppo e noi cercheremo praticamente di modificare le guide e il più in estero gli angoli funzionali masticatori nonché i piatti occlusali per far sì che attivando la legge della minima dimensione verticale sul lato di bilanciamento e portando praticamente in funzione il lato di bilanciamento in masticazione e stimolando con dispositivi apposti l'avanzamento della mandibola possiamo svincolare e ristabilire un equilibrio all'interno di quella bocca che non solo sarà l'elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita corretta praticamente nei marcellari ma sarà anche un elemento che porterà alla soluzione di eventuali problematiche disfunzionali che il paziente fino a quel momento lamentava vi ringrazio per l'attenzione ad un prossimo incontro grazie a tutti grazie a tutti